Eccoci tornati alla nostra rassegna stampa di oggi, come anticipato prima della pausa, seconda parte dedicata allo sport e dopo le notizie di cronaca che campeggiavano sulle prime pagine dedicate allo scandalo del calcio scommesso, andiamo allo sport giocato e parliamo di Perugia. Tra griffo e playoff è sempre Fabinho, l'uomo chiave, il brasiliano stringe i denti tra problemi fisici, motivazione e contratto, il recupero è ineludibile. Andiamo in casa a Ternana, l'unica soluzione è fare gol, al dentro o fuori col Varese con il solito atavico problema, le cifre di una stagione no. Notari, Gubbio, ci salveremo, il presidente attacca il sistema dopo il nuovo scandalo, noi siamo gli onesti ma in questo mondo non centriamo nulla, dice. E in una intercettazione spunta la partita del 28 marzo, anche tutto cuoio Gubbio tra le gare nel mirino doveva finire pari, in realtà finirà con la vittoria del tutto cuoio per 1 a 0. Gian Marioli, dai ragazzi che ce la facciamo, ospite a San Marino TV, l'attuale direttore sportivo della Cremonese, si è mostrato fiducioso sulla possibilità di salvezza del Gubbio. Anche se lavoro altrove, resto tifoso della squadra della mia città, detto e del club che mi ha fatto fare strada. Ancora per lo sport del giornale, Stoicev sempre in cima ai desideri, la Sir non molla, toto allenatore e non c'è ancora il rinnovo del bulgaro con Trento. Siamo ora allo sport del corriere Grifo sulle ali del gol, ora falce e arde sono letali, ben nove reti nelle ultime undici uscite, a questa allarma in più per i playoff. Messaggio chiaro alle possibili avversarie nella post-season, i due bomber non perdonano. Rischiare o no, a Terni il modulo è un'incognita, bisogna essere spregiudicati contro il Varese oppure accorti, scegliere un 4-3-1-2 o un 3-5-2. Questo è l'interrogativo del corriere. Ed ora andiamo a Gubbio, notari sconsolato, uno schifo, avrei voglia di ritirare la squadra. L'intervista riguarda il caso, come detto, della calcio scommesse, ma alla squadra dico solo una cosa, andiamo sabato a conquistarci sul campo quello che ci spetta. Il Presidente aggiunge, chi mi assicura che non siano state combinate anche altre partite oltre a quelle intercettate, e solleva questo dubbio destinato per ora a rimanere insoluto finché le indagini non faranno luce piena su quanto avvenuto. Tante partite del girone B in realtà sono nel mirino degli investigatori. Tra i fermati ci sono anche due ex giocatori rosso-blu. Si tratta di Mohamed Lamine Traoré, in passato nelle file del Gubbio nel 2013, e di Fabio Di Lauro che per sei mesi ha indossato la maglia rosso-blu nella stagione 98-99 a cori allenatori. In campo c'erano Vecchini e Bonura. Andiamo a Gualdo Tadino, Pandolfi il numero uno giunti è da Lega Pro, il 96 del Gualdo Casa Castalda è l'under dal rendimento più alto. E per Affoligno è il giorno dell'offerta, Gervasi ritorna e Ottaviani, il nome nuovo per la panchina è il prof Conti, ma il sogno resta Battistini. Intanto tutto pronto per il Romolini e il Mattia in Colune di la presentazione dei trofei di Città di Castello dedicati ai Pulcini 2005 e a piccoli amici. Infine Umberti, Pertile, Battisodo e Goncioc nel mirino dell'Acqua e Sapone, dopo Chiara Consolini dice addio anche Caterina Dotto. Siamo allo sport della Nazione, Camplone ripasso generale, sarà un grifo trasformista, il tecnico prepara due moduli, la squadra potrà cambiare pelle. Ternana con l'incognita modulo, la difesa è da inventare, Meccariello squalificato, Gavazzi e Palungo si allenano in gruppo. Abbastia, Bartolucci e il futuro, la nuova società, non sono d'accordo, parla così il presidente. Intanto Notari commenta la max inchiesta sul calcio scommesso, il club potrebbe trarne vantaggio, noi dice proseguiamo per la nostra strada. La volley, vai, Giacom Perugia, adesso tocca a testa, sera al palo evangelisti, le perugine cercano il riscatto contro Palmi. Per il basket Serie D, Bastia e Spoleto per la promozione, Lellera si salva, Deruta retrocede. Lucky Windor Vieto, la finale più attesa, chi alzerà il titolo di campione regionale? Andiamo a parlare di sport dalle pagine del messaggero, siamo a Perugia, parla Lanzafame, siamo favoriti con il vantaggio di due risultati su tre del fattore campo Avellino-Pescara-Olivorno allo stesso, vogliamo vincere i play-off per Cittadella-Camplone-Vara il piano anti-squalifica, ma in campo andrà un Perugia che punta al massimo. Per la pagina perugina dello sport c'è anche l'Ippica, Time Chant, un terzo posto che vale oro, grande prova del cavallo Umbro al derby a Capannelle. Andiamo a Foligno, il Foligno per metà laziale si presenta all'asta, presentazione delle offerte in tribunale, domani l'apertura delle buste, salvo colpi di scena, via libera al duo Damaschi-Pandalone. Siamo a Terni, l'ultima partita prima dell'addio, tanti giocatori dopo la gara con il Varese saluteranno i tifosi, visto che il prossimo anno non saranno più a Terni. A Pasquale Fazio non sarà più rinnovato il contratto, Brignoli è pronto per la nuova avventura con la Juve. E con questa notizia di sport finisce qui la nostra rassegna stampa di oggi. Per le notizie in tempo reale vi ricordo il nostro sito, che vedete anche in sovraimpressione www.trgmedia.it, vi ricordo anche l'appuntamento serale con i nostri Tg. Per la nostra rassegna è tutto, dalla redazione e dalla regia vi giunga un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.